Bella area, se sono adesso bentornati in questo prossimo episodio di Riviera la Terra Promessa Continuiamo Settima area Raggio Divino L'area superiore di Yggdrasil Oh, finalmente l'ho imparato a dirlo Una sacra luce blu si diffonde su cristalli che creano labirinti Quindi occhio che qua ci perdiamo Si riprenderà Eh, speriamo Giusto, non perdiamoci in chiacchiere Andiamo subitissimo Dobbiamo salvare Ursula Eh No, no, quelle fiamme lì, no No, io quelle fiamme le odio Allora Questo 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 e questo Via Tutto tranne il fisico E lei Fuoco E ghiaccio Ah Cominciamo Ecco la metà vita Sì ma c'hanno tipo 900 di vita Devo prendermi la Annaier La sua spada Porca la miseria Cambio Ah il mint uno resta fermo Perché? Oh meno male Non puoi mancare Ah che culo Ma cosa? Ah E certo Nooo Dobbiamo aspettare il prossimo canabbiamento Ecco la Ci mancava questo Sì ma non possiamo attaccare ragazzi Non possiamo attaccare Non in questo momento Finchè non Devono cambiare elemento Eh Eh però così resta sempre invalido Eh però così resta sempre invalido però Ancora recupero Ancora recupero Nooo basta Basta No 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 siamo messi malissimo Finchè non cambiano Vabbè Vabbè noi abbiamo solo attacchi fisici E ciao E ciao E ancora lancia Devi lanciare perché non possiamo attaccare Ma guarda un po' Oh bravi Cambiate in Sacro Eh Al momento di lanciare fulmine Via 2.800 Eh Adesso sì che possiamo attaccare Quanto vogliamo Aia E lo rallenta Ecco Facendo così sicura Dai ancora E muore pure lei Fanculo Ancora sacro Cosa ti cambi Se poi rimani sempre lo stesso Vabbè Via Grande L'abbiamo congelata Purifica Sta facendo tutto Sierra Solo Solo E ciao E per forza E per forza Vediamo Vediamo E se ho capito Pensavo che Dicessi qualcos'altro Vabbè Ma è tutto uguale Ma è tutto uguale Nuova zona Ecco Ove già c'è la saggezza Proprio In cima In cima a Yggdrasil E il monolite Con la saggezza Delle dèi Che riposa qui Sotto la luce sacra Area 8 Area 8 In cima a Yggdrasil Ah si Ah si Combattiamo Via Allora Questa volta Anhejar Questo Questo E questo Via È abbastanza resistente Questo Al tipo Tuono Non li fa niente Infatti Le ha fatto Il solletico E anche Ce l'è una maga Vai Ma certo Accomodati Ti fai pure Ora tocca a noi Beh dopo Il suo turno Bene Vai Dai Dai E che cos'è 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 Tieni C'è proprio Bahamut, no? Così proprio Ancora? C'è proprio C'è proprio C'è proprio Ma non è possibile C'è proprio C'è proprio Eh, vantati ora Andiamo avanti Una cesta Vediamo sto forziere Uh, così Ah, c'è proprio l'emblema Emblema fuoco Con questo qua Via Ah, proprio cambiamo proprio zona C'è proprio Sare la scalinata Ah, eccola Ah, c'è proprio No! Now, all three aquariums have been shattered. Ursula is now open to attack. I'm still here. I'll protect her. You speak big for an incompetent angel. I've sworn to protect Riviera and the Sprites. Ideals without power are nothing but nonsense. You would never be able to understand. Huh? This is the greatest feeling. Ein, watch out! There's something different about this angel. Ah, I'll play with you, but... Just don't die so easily, or it won't be any fun. C'è? Proprio? Eh beh. Angelo demoniaco, 12.000. Eh, cacchio. Vai. Ci proviamo? Ci proviamo. Ci proviamo, ragazzi. Eh, vacca la miseria. Eh... Il ghiaccio è nullo. Vediamo un po' la sua strategia. Attacco con potenti mosse di ghiaccio. Colpisce la col fuoco. E aumenta la tua resistenza al ghiaccio. Eh, è una parola. 6.500? 6.500? Nooo. Ma è straveloce. Aia. Sì, vabbè. Oh, niente, eh. Insiste. Eh... E per forza insiste questo. C'è una parola. Ahi no! Sì, toglie, toglie Questo dovrebbe finire Mimic Ray Grande Toglie pochissimo Cassio Non posso neanche vedere la vita Sì, posso vedere la vita Eh Ci ha purificato però Vabbè E noi continuiamo Raggio mimetico Sì Sì Mimic Ray Sì 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 Porca puttana! Porca la miseria! Porca la miseria! Wow! Cos'è che fa sta roba? Se stesso, se stesso, aumenta la forza? Certo! Certo! I'm not going to let you! I'm not going to let you! Lada! Most impressive! Still standing? Well, it's about time. Come to the Maze of Shadows. Come to the Maze of Shadows. I'll be waiting for you there. It seems... I made it in time. Lada! Lada! Why? You are the most fit to carry out the mission. It's simple reasoning. You shielded me! I understand now. Hector is the source. Malice revived the accursed. And Hector was the one that ordered it. So he could begin the retribution. By returning Riviera to nothingness. Hector plans on becoming the one and only God. You were deceived by him. I have failed. As a grim angel. Huh. Familiar. Long ago. You asked me. What I lost as a grim angel. Correct? That which I lost. Was my emotions. Thanks to that. Thanks to that. I could manage any mission easily. Lada! Lada! You were nothing but a nuisance to me. Thinking, worrying, doubting. You were nothing but a nuisance to me. Watching you, I felt something similar to anger. But I realize now that that wasn't anger. I may actually have been envious of you. You, who was as weak as a newborn child. Returned far stronger than thought possible. Mine. You might. You just might be able to find it. The answer, I could not find. No matter how hard I tried as a grim angel. Farewell. Aye. Lada! Lada! Live on, I. Lada! 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 The essence of a fallen angel. I'm sorry, but there is no time to grieve. Ursula! There is nothing left to protect Yggdrasil. You must do as Lada told you. Travel to the Maze of Shadows and defeat Hector. Just as Seth, the Sealed One, and I are opposites, so too are the Yggdrasil and the Maze of Shadows. If the Yggdrasil's powers have weakened, the Maze of Shadows must be weak as well. See for yourself. That is the Maze of Shadows. That's the Maze of Shadows? Hector awaits. We will open the seal to the Maze of Shadows. Ursula! Ursula! Everyone pray. I understand. For Riviera's future. To give everyone hope. Where is the Maze of Shadows? The Isle of Goriatay. And how do I get there? You can get there through Heaven's Gate. Ayn, I entrust my faith in you. Leave it to me. We shall accompany you. Well, of course. Riviera is in danger after all. Let's go! Everyone! All of our futures will be decided in this coming battle. Let's go! This is it! Ebena. SBB. Eh. Ah. Ayn witnessed the death of Lada. and the emergence of a third Grim Angel, Malice. The revival of Ursula's counterpart, Seth, who holds the key to the Retribution, was also unveiled. With the destruction of the Aquariums, Yggdrasil is now vulnerable. What will be the fate of those who can alter Riviera's future? What will be the fate of those who can alter Riviera's future? and the maze. Ok. Eh, noi siamo qua. Eh, per forza dove andresti, se no. Accidente. e prendi. Il pane è sempre ottimo. stanza sopra. Ma se io uscissi e rientrassi in un certo senso succederebbe qualcosa? Cioè, tipo, se rigenerebbe, cioè, se rigenera il pane, forse devo, tipo, uscire. se esco e rientro? Eh, provo a vedere se il gioco è buggato, tipo. Where should I go? Eh, di Pixia. Casa di Lina e Fia? Loro vivono insieme. Dimmi che... Ah, no. Una volta preso il pane non si rigenera più completamente, vabbè. Ok, ragazzi, ma direi che per questo episodio, questo incredibile episodio di Riviera Alta era promessa, direi che è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, se volete ammennare e aggiornando i prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi e mettere un bel poccino in su se vi ci vuole l'episodio. Mi raccomando anche la vostra nei commenti e consiglierimenti ti consiglio tutto quello che volete e noi ci risentiamo a un prossimo video. Bella!